I fratelli del cerchio I fratelli del cerchio, attraverso Andreina P. Domanda Il fatto di essersi resi conto dei propri errori in questa vita permette che questa analisi rimanga nella coscienza e ci impedisca di ricadere ancora negli stessi errori in una esistenza successiva? Cioè, può bastare la comprensione a cui si giunge analizzando se stessi o è necessario collaudarla attraverso altri eventi? Vi ringrazio I fratelli del cerchio, a te giunga il nostro saluto Quello che più conta è continuare a testarsi in questa vita agire, vivere e costantemente osservarsi Non imporsi dei comportamenti che il ragionamento selezionerebbe ma lasciare agire la propria coscienza in poche parole essere se stessi e non come si vorrebbe essere o meglio, verificare se il comportamento che si adotta risponde alla propria natura e viene spontaneo o se è pilotato da una riflessione che è più giudizio verso le proprie intenzioni tenute sotto il controllo della mente ma non ancora diventate parte integrante del proprio essere Quindi la coscienza comprende tutte quelle acquisizioni che hanno dovuto subire il vaglio della chiarezza d'intenti Se l'esperienza detta impropriamente errata è stata ben compresa e assimilata non ci sarà necessità di verifica né in questa né in altre vite Ma se questa genere ha ancora un sentimento di disagio di conflitto o di paura di doverla rivivere allora è chiaro che la traccia c'è ma non è ancora stata trasformata in quella luce che costituisce la nostra coscienza Continua Grazie a tutti